musica 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 rispetti cos'era? vabbè patata, bitola sembra una roba che teme eh a panna co a calcina no anche a panna co a calcina oh oddio ah che ha pentato il loro sotterreno eh scorrezona ma scorrezza tutto di abcd che cacate sia, oh erpica bene non sta quasi sempre erpico come caso che voglio, vedi? si, vedi che erpico come voglio guarda, guarda vedo che erpico come voglio e che non ti puoi far che niente vedo? vedo che potrei erpicare come cavolo voglio senza senza che nessuno possa rompermi le scale vedi? il campo è mio erpico come voglio io voglio fare un'erpicatura abissa e mi erpico abissa vedi? nessuno viene a lamentarsi e come erpico io si c'è anche un sistema brevetato quindi non bisogna rubare neanche l'idea che serve per sparpagnare la terra da qua e da qua in modo che sia sempre ben uniforme e e potrei essere oh c'è qua rettomato e potrei essere un sistema infaibile per sguaiare bene sopra la terra quindi si ma è tutto già preso è tipo se me n'abbia dove vai di rio ehm ehm io ho messo in uscita ehm ehm perchè no 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 cazzo al giro che pirla dai che cosa è male tira un calzetto, ruba il calzonetto d'artagnano ah madonna sarà un calzetto con una piedra dentro? ah io si aveva un po' e mezzo non è che tu fossi un vecchio di 60 anni e lei è un vecchio non mi ricordo cosa non so che fosse anche a d'artagnano ti fa un tramezin, ribalta il tombin d'artagnano che cazzo non è nascita ahahah 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 porro gato che porro gato porro d'artagnano si ti erpica beva che rovo con cuo ma che bella foto che farà così tada siamo a cercare due zettorini d'artagnano spaccabahia more di infarto d'artagnano cazzo di stile d'artagnano guarda un puteo va su pancartè si è vero so pedofili di uomo vede 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 tira ma vero l'intelligenza quali non che ora è il inizio del rd campi stordi no d'artagnan per il posto che ha detto in un'alzatrice d'artagnan d'artagnan poi l'immigrato tutti fa festa d'artagnan madonna tranne non mi so pure un'allarme l'antifurto si di un fare, guarda che mestieri guarda che leve guarda che leve stanno molestando sessualmente guarda 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 io fai un bel che mi ha fatto anche ai motrici si praticamente fai un bel che mi ha fatto anche ai motrici Qua arrigna il piccolino. Tanti anni dopo. Grande, sì. Guarda come un bel patocha. La capella. D'Artaña, patocha capella. Spaga la porta a D'Artaña. Spaga la porta a D'Artaña. D'Artaña, scavalca il piseo, si incastra il canceo, D'Artaña. Oddio boh. D'Artaña, vede po' dò e scampo a via, D'Artaña. D'Artaña, vede po' dò e scampo a via, D'Artaña. D'Artaña, vede po' dò a. Spaga la porta a D'Artaña, in testa. E' riuscita a via. Domani, domani ci avemmo il microfono, sì, domani. Domani ci avemmo il microfono a Cristiano, fanno gli altri D'Artaña. D'Artaña. Sì, vede una vecea che poi... D'Artaña, tira una vecea, spacca una freccia, D'Artaña. D'Artaña. Guarda qua che non ciuffo, che non ciuffo, che non ciuffo. Corca ciuffata. Anche non sai che incordo di una roba, intanto. Posso incordarmi? Eh, guarda bene. No, mi non è ancora in corto, ovvio niente. Cos'è che non mi è in corto? Te sarà a Portea? Era ora che è stato in corto. Sì, ma continua a sarà a Portea, tutti, eh. Verdi che porta, che fugga te dai. D'Artaña. Oh, ma non c'è sarà neanche cosa di io. Su, fai pini, D'Artaña. D'Artaña, vede un pedone e tira un porcone. D'Artaña. D'Artaña. Coupa un rasta, D'Artaña. No. Coupa gaspa. D'Artaña. C'è fà una raspa, Coupa gaspa, dai. Che infamia. Oh, yeah. Coupa gaspa. Questa è stata riuscita. Siii. Come si, Dio... Oh, il gatto. Madonna di Classe è over Toya. D'Artagnan, se fumo spineo, scavalca un castello, D'Artagnan. No, se fumo spineo, tacca il caneo. No, D'Artagnan, tacca il caneo, se fumo spineo, D'Artagnan. Cambia tantissimo il giro. Eh, cambia il modo di fare. Ma no, il... Sì, tu è pronto, Matti? Eh, beh, sono ribaltato, sono marciapie. Oh, caldo, dentro l'aria è tutto caldo. No, se freddo. Eh, Marco sarebbe di cucinarsi. Che Madonna sarebbe una roba di bambi. E se fumo bene? D'Artagnan, fai sui paesi, cambia continente, D'Artagnan. Ma te lo titolo del video, Marco e D'Artagnan. Ma ti voglio recitarti a... a pedalo sapa. Dipende di quanto ti vuoi fare. Pedalo sapa, Dio. Ma non è giro caena. Ma non è giro caena. Sì, sì, ma anche a pedalo sapa. Ah, Dio. Ma non è che te... A parte che non mi pare che a pedale, che sape quando che ti pedale. Dopo gli sti. Ah, aspetta, quando cosa muoio sul campo? Non andai meglio l'orto cosa muoio e muoio dove c'è lai con la bicicletta. Sì, sì, cosa ho fatto sul campo? Se parte da terra, non veniva a terra sui copini. No, mi cattaro da... Parlo del Picasso. Sò schiena da quanto ve ho, c'è che muoio i pedale. Dai, the clutch is terribente il muso. D'artagnan, sempre combatte con le ciabatte, d'artagnan. D'artagnan, salva le vecchiette, gli tocca le tette, d'artagnan. Sì, le tette di avvo. A volte è anche qui. Che tucco. Come intonacarsi. Tu, quei figura, fa sempre la figura. Non mi ricordo il titolo. Lo che c'è di... Che c'è... Che c'è noi? Che c'è noi? No, che c'è che c'è il 110. Che c'è... Che c'è... Che c'è qui... Che c'è... Che c'è... Che c'è di noi? c'è ma cattolini ocafatti pdc vino e mi colliore del frondino anche su ea drugie beh primo volti di dc ronconi ero pure in domenica vedremo quale pese ancora gasolio lo fu un giro anche a cui avance no e' a sta porta e' eeeh, che ucciolo no, 80 in copia col 110 sito a posto ma fermati sito a posto matti perchè mi sento un trattore ah, se me lo volevo accelerare a manetta no si si mi sento che volevo accelerare a noi era a caso maledetto infame era a caso che c'erava tu senti un motoro di 120 kW un motoro di 80 kW ma se sei un guai di un camionato che cazzo dico 1619 eeeh cosa hai detto? e vi dice anche a me che trovo fuori l'urea con il 250 ha fatto 1600 visual no, quello che vedo un ceo di merda su un... che ceo di merda? ma ti si arriva a destrazione prima che prima dei quattro domani di noria nel letto dato che ci sono dei cinque manca dieci capito e poi c'è anche aliso che c'è bea però eeeh allora è un bea potente l'aliso 2 cindri 2 cindri ma ne manca un po' uno saputo 2 cindri uno che manca il pistone eeeh addio una roba p g non lo senti o cosa senti uno le bollo uno le bollo anche 2 cindri e dopo che sanno i cindri che manca il pistone ahahah eh Mati si arriva a destinazione prima che metti la batteria prima che metti la batteria a guardare i nomi su Instagram e poi la batteria è scarica ah adesso ho toccato la carica la batteria a Maria Vergine è nato fuori stai a me dire che se mi è nato quasi assai eeeh al posto della soli questo è quello guarda che adesso è il maestro è il maestro, cosa sai che hai visto ti la volevo posare dopo che sei anche a questa qua a me ne so so magari avrei avuto un problema che a volte una ragazza è una viola ma come si fa a fare una ragazza viola però c'è tanto, c'è tanto gli occhi ragazzi 50 mia followers ecco ecco dove che se fai seguito eeeh aspetta che metti un fiato di like va e se hai impienato le foto col costume ah ne te volessi impienarla di no no ci faccio ah devi avere i putei no putei, sono grandi operai eh cioè putei ah se favo fiori se favo fiori si può che mi serve mano d'opera ah però vuol dire che cosa ha verto in industrie che porta e tentare i sui dei ooo e anche al finestrondo ad rio su una notte sarà il finestrondo è sola non so come cazzo sarà vedrà anche il clima vedrà anche il clima no no metti su quella quel coso che altra versione è quel clima guarda è questo qua agganciare ma dopo la gente si corre eh ma teoria sto qua non è quel clima sto qua boh eh in teoria si eh no no niente clima ho c'ho eliminato a morire dal caldo ahahah polska style un attimo che finimo can di dio di cenita dunque dunque si io eh ah no si cosa capio è da mettersi la voce dal negro ah si 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 va ahahah è fuori è un scherzo è fuori è un scherzo a giulia che che mi serve una che ha fatto la voce da far registrare un video Dio caro co energy perchè energy non si è lesbica ahahah ci puoi variare con un fiore come fai ad avere un fiore eh ti puoi adottare un fiore eh se andato a un barco uno la porto lì si può entrare tra i lesbiche e a posto la strada il primo che si può salire ti ho detto dammi il tuo sburasso eh lo vedete anche in modo decente eh eh insomma guarda cosa abbiamo quasi 36 gradi l'acqua del piccino ah Dio bon matti ah ah oh 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 eh chi è si insomma ah i piccoli coglioni struccavi di 8 ehm se tu a posto dai che ti chiamo dai perchè se no qua è questo ah io ho cambiato la voce ehi tu ehi tu ti fa perdere tempo ehi lo so io lo so ehi 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 ehi mi dita che avevano 140 e che c'è un'industria verde ehi ehi che dico vara questo si è un pistone mancante ehehh eheh eheh già oliato e tutto no ha un 1050 vario vario? eeeh bravo da casi che se non finimo altro puntaggio me tocca andare a stampare i viti qua, qua macchina offset auto e rulli tutto così e poi una volta non ti senti che ti dici che andiamo tutti mangiare esatto, andiamo tutti mangiare, tu hai dieta no, no perchè quando c'è il momento che si finì a mese mi, mi, però aprire aprire le danze e dire e dire ah potremmo essere registrati no, se ti vuoi dare una storia e ti aspetta, se hai e non ti vuoi dare un calcone e dopo ma ti vuoi registrati ma cosa ti guarda fuori il luogo vabbè dai ma tipo, ti vuoi fare anche la mese? e ora aspetta se hai eeeh se hai eeeh ti dici che vi ho fame e non puoi stare là a aspettare che il prete finisse eeeh 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 però tutto questo solamente se rispega ciò che ho appena detto altrimenti non si fa un cazzo cioè se sei biondo e ti dice che ha fame eeeh che ti dico guarda, se sei a te qua non ti dico eeeh 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 guarda un altro no che vieni via eeeh 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 rufa eeeh 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 le vuoi così nella pellet buongi dicimi quando crese la soibine eeeh ma buone eeeeh eeen baldassi mia ad collaborate c'era a reset eeeh minno eeeh ciao ciao ceo eeeh eeeh ora si che ha due un cannone Io ho tolto su gli ovi prima che le ammazze E con questo abbiamo Grazie dell'attenzione e arrivederci Bella raga